Tutto registrato Quello che vedete lì è una citazione tratta da delitto e castigo C'è scritto diventate il sole Alzi una mano chi si ricorda che in delitto e castigo c'era questa citazione e sa dove Delle piloghe Non bisogna indovinare Dovete semplicemente alzare la mano chi si ricorda che la citazione c'era e si ricorda dove Io mi ricordo che c'era ma non c'era Io mi ricordo che c'era ma non c'era Ok Tania Dovete solo alzare la mano con coraggio Chi semplicemente si ricorda che la citazione c'era Ok Chi si ricorda dove è la citazione? Ok Ho capito Benissimo Questo ci serve per capire Fino a che punto possediamo il testo Perché Perché Sarete d'accordo che se nel testo Ci sono delle parole Tra l'altro sono parole rivolte al protagonista Se nel testo ci sono queste parole rivolte al protagonista E' una mossa dell'autore molto significativa e molto forte Adesso immaginatevi come noi leggiamo il testo Se soltanto una piccola parte di noi si ricorda che c'è questa citazione nel testo E solo quattro persone si ricordano da dove è nel testo Cioè Questo è proprio per cui ci siamo capiti Lo dico semplicemente perché noi possiamo prendere coscienza Di quella che è la nostra posizione rispetto al testo Cioè quando noi pensiamo che il testo lo abbiamo letto e abbiamo capito tutto O almeno che abbiamo capito qualcosa Ma abbiamo in realtà saltato nel testo le cose più importanti C'è una brutta notizia Noi leggiamo così non solo del ditto e castigo Noi leggiamo così tutti i libri E non solo Ma noi entriamo in un rapporto così con gli avvenimenti della nostra vita Da qui nasce un'espressione che si usa in russo Mente, sì, come un testimone Mentire come un testimone Cioè una persona descrive una situazione in cui era presente Ma è riuscito a trarre da quella situazione solo e soltanto quello che è riuscito a vedere dal suo proprio punto di vista Dalla sua prospettiva E quindi la situazione che descrive quello che ha visto la illumina soltanto dal punto di vista di quegli elementi che è riuscito a vedere lui in quella situazione L'idea di un'infinita possibilità di interpretazione del testo E questa idea è un'idea che tiene conto della psicologia umana E questa percezione selettiva E tutte queste possibili infinite interpretazioni In realtà in realtà non avranno un rapporto con il vero disegno dell'autore ma in modo molto relativo E' proprio perché noi nella nostra interpretazione non teniamo conto di tutta una serie di cose che l'autore ha messo nel testo ma noi dal nostro punto di vista non abbiamo notato E' da qui che derivano tutte queste idee sulle possibili infinite interpretazioni E le possibilità di capire cosa è chiaro in testo E d'altra parte anche l'idea sull'impossibilità di capire cosa davvero dice il testo Ieri parlando dopo la lezione ci siamo già trovati d'accordo con uno di voi che è un rappresentante del sapere matematico Che la matematica è la più umanistica di tutte Sul fatto che la matematica è la scienza più umanistica di tutte Ecco, la filologia praticamente è una scienza altrettanto precisa quanto la matematica Certo, con tutte le differenze del caso Che si possono fare sia rispetto all'una che rispetto all'altra Ma in realtà dentro il testo Se noi consideriamo, teniamo in considerazione assolutamente tutto quello che nel testo è presente Capite benissimo che questa è una cosa che sarebbe l'ideale E' una cosa che è difficilmente raggiungibile Tenere presente tutto ma non significa che sia impossibile, che sia irraggiungibile Allora, se noi teniamo conto di tutto quello che è presente, noi possiamo arrivare a vedere il testo esattamente così come lo vedeva il suo autore Ed è interessante notare che è proprio quello che affermava Dostoevsky Io ho già scrivato, non c'è questa citata, ma io credo che la posso scrivare per ogni incontro Io non è la prima volta che vi parlo di questa citazione di Dostoevsky ma penso che la si potrebbe ripetere praticamente tutte le volte che ci rimettiamo al lavoro Perché nella nostra coscienza è troppo radicata quella idea che è stata seminata in noi negli ultimi due secoli L'idea dell'impossibilità di un'interpretazione adeguata del testo Dostoevsky afferma quanto segue e con queste parole definisce quella che è l'artisticità cioè quella che è l'essenza e la sostanza del testo artistico afferma L'artisticità di un autore è la capacità di rappresentare, raffigurare con una tale precisione nei volti e nei personaggi le sue idee che un lettore leggendo il romanzo possa arrivare a capire l'idea che lui rappresenta esattamente come la comprendeva l'autore quando ha creato la sua opera questa è la definizione di artisticità di Dostoevsky e possiamo capire che come minimo questo è esattamente quello scopo che lui aveva dato a se stesso nel creare il suo testo in questo modo, noi possiamo capire che tutti gli obiettivi che Dostoevsky scrivono nascara e praticamente non lavorano con il suo testo nascara? cioè, molto, 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 molto tutte le affermazioni diffuse sul fatto che Dostoevsky scrivesse in maniera poco accurata, velocemente senza prestare attenzione al testo che scriveva in realtà non hanno nessun fondamento cioè, nessun fondamento da un punto di vista documentale perché tutti i ricercatori e gli studiosi che hanno lavorato con i taccuini di Dostoevsky e noi, nel corso della nostra scuola, faremo riferimento anche a quelli che sono i taccuini le brutte di delitto e castigo tutti gli studiosi che hanno fatto questo lavoro di confronto hanno notato l'estrema scrupolosità di Dostoevsky nel lavorare col suo testo e non solo, ma sono noti come minimo due casi uno di questi riguarda proprio delitto e castigo il secondo è sul romanzo L'Idiota quando Dostoevsky, написando già 20 авторских listo in cui Dostoevsky dopo aver scritto già listo è quello che tu scrivi sulle storie grazie quanti pagini sono? 20 listo è 24 x 20 25 x 20 25 x 10 25 x 500 dopo che ha già scritto più o meno 500 pagine di testo ha tolto via tutto quello che aveva scritto e ha iniziato il romanzo per nuovo e aveva ricominciato da capo a scrivere il romanzo perché ha capito che l'idea è tornata così che ha bisogno di un altro modo perché si era reso conto che l'idea si era rivoltata in tal modo che aveva bisogno di un nuovo modo di essere incarnata e inoltre sia nel caso di delitto e castigo che nel caso dell'idiota era stato fatto in uno stato in una condizione in cui lui non aveva assolutamente tempo perché aveva già ricevuto una parte del compenso per far scrivere il romanzo da parte della rivista e aveva assolutamente bisogno degli altri soldi che gli avrebbero dovuto pagare e cosa significa allora in una situazione di questo tipo eliminare più di 400 pagine e ricominciare tutto da capo bisogna dare il giusto peso a questo tipo di scelta quindi il testo di Dostoevsky è un testo pensato nei minimi particolari un testo in cui in assoluto ogni parola sta esattamente al suo posto quindi e chiaramente per la maggior parte tutte queste idee di chi dice che Dostoevsky scrive male hanno fatto danno, sono state dannose nel momento in cui i testi di Dostoevsky sono stati tradotti perché se un traduttore ritiene che Dostoevsky abbia scritto male, migliora la traduzione dal punto di vista stilistico i traduttori spesso hanno cercato di rendere lo stile più bello ma in questo modo hanno fatto scomparire tutti quei dettagli che invece sono fondamentali per il testo di Dostoevsky quindi c'è ancora un'altra posizione base di partenza fondamentale per leggere i testi di Dostoevsky quindi notiamo che c'è una cosa stilistica, qualcosa che rispetto allo stile è a dir poco strana e allora noi possiamo pensare che è semplicemente una cosa che è stata scritta male perché è stata scritta di fretta questo è un'altra posizione di cui bisogna pensare in realtà in realtà si tratta proprio di un punto in cui bisogna mettersi a pensare nel modo più serio ma in realtà, e abbastanza, Dostoevsky spesso e abbastanza spesso, a volte addirittura molto frequentemente Dostoevsky arriva a sottolineare questi punti di stranezza stilistica nei suoi testi ad esempio, c'è una cosa che ha a che fare direttamente con quella frase diventate il sole ma si trova in un altro posto del testo un altro punto del testo quando Raskolnikov esce nel momento in cui viene scacciato Luzin di cui oggi abbiamo già parlato lì ci compare una frase che è questa dove vai tu Rodia? in modo un po' strano chiese Dunia in russo questa frase è strana perché da un punto di vista grammaticale la costruzione della frase non è corretta c'è una inversione nell'ordine normale, neutro delle parole della lingua russa dove vai tu Rodia? dove vai tu Rodia? grazie dove vai tu? dove vai tu? dove vai tu? vediamo che la risposta di Cristo è vado a farmi crocifiggere al tuo posto in sostanza in sostanza noi qui sentiamo che nelle situazioni più inattese e inaspettate a Raskolnikov sono rivolte delle parole che possono essere rivolte solo a Cristo come potete capire quella affermazione diventate il sole è anche un invito diretto a diventare Cristo perché in ogni caso la liturgia russa per lo meno in quella che è la liturgia russa ma in ogni caso la liturgia russa in tutto il susseguirsi della liturgia non solo nel senso di una funzione ma in tutto il ciclo della liturgia è assolutamente normale il chiamare Cristo sole la denominazione di Cristo come il sole penso che sia così anche nella liturgia cattolica ma io lo penso dovete confermarmelo voi in Russia questo è letteralmente inizia con l'inno del Natale in cui per tutto il tempo liturgico del Natale risuona il troppario l'inno del Natale che parla del fatto che i magi uccidza zvezdoy che la stella insegna ai magi a incinarsi a te sole di verità la stessa cosa accade in tutti i canoni e in tutti i linei del tempo di Pasqua che sono costruiti sull'idea di questa luce che brilla, che si illumina dal sepolcro di questo sole che rinasce, che nasce di nuovo dalle viscere della terra come potete capire tutte queste immagini e in particolare l'immagine del sole che rinasce, che si eleva dal sepolcro hanno un rapporto direttamente con quello che dice Porfiri a Raskolnikov parlando con lui ora voglio dire un po' cosa faccio che cosa sto facendo adesso e che cosa andremo a fare e che cosa andremo a fare in questa luce e vi dico in anticipo che non sono totalmente convinta di quello che sto per fare perché ho intenzione adesso di presentarvi una interpretazione del testo intero perché se noi la spezzettassimo, la frammentassimo nel tempo breve che abbiamo nel corso di questa scuola ho paura che noi iniziando a mettere insieme, analizzare il romanzo da vari punti quindi non avremo il tempo di arrivare a una visione di insieme perciò ho deciso di iniziare proponendovi una presentazione integrale che poi poter lavorare al contrario che poi poter lavorare al contrario cioè entrando a vedere le singole parti dopo e allora analizzeremo le singole scene separatamente ma già tenendo in mente questa interpretazione integrale come potete capire ci troviamo comunque dentro il lavoro del circolo ermeneutico e se siamo nel corso, in questo modo, comunque da dove iniziare perché comunque se siamo dentro un cerchio, non importa da dove iniziare è comunque un cerchio ma vediamo se ho avuto ragione seguendo questo mio desiderio di iniziare questa volta dall'intero e non dalla parte e quindi, per il tempo, questa interpretazione integrale fortunatamente questa interpretazione integrale l'abbiamo presentata qualche anno fa per creare la mostra che abbiamo presentato nel 2012 al meeting di Rimini una mostra che aveva a tema la modalità con cui Dostoevsky costruisce le immagini nei suoi testi ed è una mostra in cui abbiamo presentato le icone russe e i quadri della pittura europea che stanno passando con il suo testo che ci presenta Dostoevsky cioè queste immagini che emergono da dietro, da sotto, attraverso il testo che ci presenta Dostoevsky che ci dà un fondamento da un punto di vista formale per fare un lavoro così perché possiamo fare un lavoro così? è il fatto che la cultura cristiana europea è stata raggiunta, conosciuta da Dostoevsky proprio attraverso la pittura europea e noi questo non lo sapremmo se non avessimo a disposizione un testo che è il diario le memorie e ricordi di Anna Gregorievna Dostoevsky perché per Dostoevsky era un modo di vivere talmente di routine, talmente normale che proprio niente di questo non ha detto i tip musei andare nelle città europee a guardare i musei fermarsi e contemplare la pittura occidentale che se non ci fosse stata sua moglie che ha raccontato tutto questo noi non lo sapremmo cioè Dostoevsky è come se andasse al lavoro in qualsiasi città dove ha vissuto a Venezia, per esempio, ha vissuto 9 mesi a Venezia ad esempio a un certo punto della sua vita ha vissuto 9 mesi a Venezia a Firenze ho sbagliato e se lo sbagliato non lo saperemmo ma inoltre, credo che sono già anni che ha vissuto a Dresden se lo sbagliato a Dresden quindi se lo sbagliato a Dresden se lo sbagliato a Dresden e lo sbagliato non so fare esattamente i calcoli ma è andato più volte a Dresden e se mettiamo insieme i periodi che è stato lì c'è stato degli anni e Anna Grigorjevna, per esempio, scrive e ad esempio sua moglie Anna Grigorjevna scrive che quando vivevamo a Firenze noi ci alzavamo la mattina facciamo colazione e andavamo e andavamo o a Palazzo Pitti e loro vivevano vicino a Palazzo Pitti o agli Uffizi o agli Uffizi oppure andavamo in giro a osservare tutte le chiese del centro storico quindi, come vediamo è il Duomo il Baptisterio il Baptisterio e Dostoevsky sognava di fotografare le porte del Baptisterio e di appendere le immagini nel suo studio che scriveva Santa Maria Novella e sua moglie descrive la loro vita a Dresden scrive così in modo da che Ljuboschka e non aveva bisogno la mia prestigione man mano che Ljuboschka la figlioletta di Dostoevsky man mano che Ljuboschka cresceva e non aveva bisogno della mia presenza costante io potevo andare con mio marito a visitare la Galleria di Dresden oppure sono andati a Bologna di strada da Firenze a Venezia e Dostoevsky va a vedere il quadro di Raffaele e Dostoevsky va a vedere il quadro di Raffaele e Dostoevsky di Santa Cecilia di Santa Cecilia e Anna Grigorina diceva che Anna Grigorina scrive che era agitatissima perché facevano tardi a prendere il treno e che non riusciva a portare il suo marito ma aveva paura di perdere il treno e queste sue paure che si trovano nel diario nelle sue memorie sostanzialmente sono la ragione per cui in fondo lei riesce a far arrivare a noi quello che non sapremmo come si comportava Dostoevsky quando era all'estero Venezia in cui loro durante quel viaggio si fermano 4 giorni praticamente sono tutto il tempo a Piazza San Marco vedendo più volte San Marco la cattedrale e tutti i musei del centro di Venezia perché perché ho dedicato così tanto tempo a parlarvi e raccontarvi questi dettagli perché per vedere quello che Dostoevsky in modo per sé naturale immette inserisce nel suo testo possiamo solo vedere quello che Dostoevsky noi possiamo arrivare a vederlo solo se vediamo anche noi quello che ha visto lui quindi quindi per noi sarà molto complicato vedere riuscire a intravedere qualcosa nel testo se non sappiamo che queste cose esistono se non le abbiamo viste le storie di Pietro così come se noi non conoscessimo la storia della fuga di Pietro da Roma non potremmo capire quello che Dugna ha detto a Rasconico quindi nel romanzo c'è un piano molto forte molto potente di livello che assolutamente non stupisce che che emerge ed è accessibile a chi sa che questo esiste e che assolutamente non è possibile capire se il nostro occhio non può dire non è possibile che noi riusciamo a percepire se i nostri occhi non sono accordati a questa possibilità di vedere e Dostoevsky chiaramente cerca di ridirci sempre in un certo senso la stessa cosa in tante modalità diverse in tutti i modi possibili per questo per questa ragione la stessa cosa nel testo viene ripetuta sempre in modalità diverse più volte e questa è anche la possibilità che noi abbiamo di verificare quello che noi scopriamo nel testo troviamo nel testo perché perché Dostoevsky immancabilmente quando vuol dire qualcosa la ripete e la maggior parte delle volte la ripete non una volta sola più di una volta e questo è già escludere la possibilità di molteplici interpretazioni del testo perché se ci fosse un punto in cui lui dice una cosa attraverso un punto passano infinite rette ma se lui ripete ci sono due punti attraverso due punti passa una retta sola ora osserviamo quali sono gli altri punti che ci fanno notare la stranezza della posizione di Raskolnikov nel testo Porfiri non gli dice non gli dice soltanto diventate il sole tutti vi vedranno ma continua il sole deve essere innanzitutto un sole cioè dice semplicemente che Raskolnikov è già colui che dovrà diventare cioè è un enunciato è un'affermazione ma molto strana cioè Raskolnikov è già qualcuno che in realtà deve ancora diventare cioè di che situazione si tratta è una situazione che è una situazione è una situazione una situazione che di per sé è nota a qualsiasi cristiano perché ogni cristiano è re e sacerdote e santo ma allo stesso tempo non è che uno che deve che è chiamato a diventare il primo secondo il terzo re sacerdote e santo ma allo stesso tempo ogni cristiano è il che deve imparare in sé Cristo ogni cristiano è colui che deve realizzare in sé Cristo ma allo stesso tempo deve imparare in sé Cristo ma allo stesso tempo è che ma allo stesso tempo Cristo in Lui c'è già quel Cristo che riceve nell'atto del battesimo e nell'atto dell'eucarestia è meglio che si rinnova in questi due atti perché si rinnova in questi due atti perché originariamente lo riceve nell'atto della creazione in cui ogni uomo è immessa l'immagine di Dio cioè qualsiasi uomo è Dio per vocazione ma di conseguenza è una vocazione che deve ancora realizzarsi ancora compiersi e ovviamente il romanzo Dostoevsky è di per sé il romanzo di Dostoevsky è questo cammino di realizzazione e di ritrovamento di sé in se stesso di quel se stesso che è il vero io dell'uomo Se vi ricordate Raskolnikov quando parla con Sonia parla dei soldi quando Sonia si spaventa che i soldi che lui ha dato per il funerale sono dei soldi quando Sonia si spaventa che i soldi che lui ha dato per il funerale sono i soldi che lui aveva rubato sono i soldi sono i soldi sono i soldi che lui ha dato sono i soldi che lui riceveva dalla madre dalla sua pensione ma lui diceva non aveva i soldi non aveva i soldi e perché cosa gli spendeva noi vediamo Raskolnikov trattando i soldi in mano la somma la somma di cui ha bisogno quando da i soldi al poliziotto perché il poliziotto riporti a casa la bambina che era stata oltraggiata per la prima volta nel romanzo nel romanzo nel testo è scritto che lui tira fuori dalla sua tasca 20 copieche e poi nel testo c'è scritto si erano trovate erano saltate fuori punto esclamativo quindi in quel momento quando i soldi per marmelladovo è lo stesso modo quando ha bisogno di soldi per marmellado per i funerali questi soldi arrivano a Raskolnikov e lui può darli c'è sempre qualcuno che gli chiede soldi e c'è sempre qualcuno che gli chiede soldi in più chi gli chiede soldi sono persone che di per sé non vanno in giro a chiedere soldi e che non dovrebbero chiedere soldi non devono chiedere soldi perché non dovrebbero chiedere soldi perché quindi non devono chiedere soldi non devono chiedere soldi perchè loro non devono riportare per le nostre pesche non credi non prendendo ppare soldi oppure magari non author e non chiedere soldi perché dico che sono persone che non dovrebbero chiedere soldi perché sono persone che potrebbero guadagnarsene, ad esempio la scena con la prostituta che si chiama Duclida, è una scena molto piccola in cui all'improvviso la prostituta si rivolge a Raskolnikov e gli dice io di solito non chiedo mai, ma non potrebbe darmi e le chiede per bere, perché in quel momento vuole bere e lei dice, come si non solleva, non solleva, non solleva non ho idea di come sia stato tradotto nei vostri testi neanche io perché non capisco ma come dire, io non lo faccio in un modo in cui dice io di solito non faccio mai così ma adesso con lei si rivolge a lui mi sento come in una condizione diversa non sono io come sono io di solito non sono la stessa e lì c'è un'altra prostituta più anziana che dice ma come è che chiedi i soldi così? non capisco, come si fa a chiedere i soldi così? cioè questa breve scena è come se andasse a focalizzare tutto questo sistema del dare e chiedere soldi di Raskolnikov cioè da lui vanno a chiedere i soldi e da lui ricevono i soldi persone che sembrerebbero non avere alcun diritto di aspettarsi che lui questi soldi gli dia e questi soldi li ricevono da lui così semplicemente così cioè questo povero studente risulta essere una sorgente sovrabbondante per tutti quelli che ha intorno a cui nel momento in cui hanno bisogno lui dà ciò di cui hanno bisogno e notiamo che Raskolnikov in qualsiasi situazione si trovi si sente in dovere di risolvere la situazione di rispondere a quel bisogno vuol dire che lui si sente continuamente responsabile di quello che gli accade intorno e si sente obbligato cioè in dovere anche da un punto di vista materiale di garantire la buona riuscita la risoluzione di tutte quelle situazioni mentre quando inizia a ragionare si mette a pensare lui inizia a partire da un altro punto cioè quando inizia a ragionare cioè dal fatto che lui ha poco possiede poco che quello che ha sicuramente non può bastare per tutti e che un suo ragionamento continuo è che lui non ha il diritto di dare quei soldi però di continuo quando agisce impulsivamente continua invece a agire in altro modo a dare soldi nel romanzo c'è un bellissimo simbolo di queste due condizioni che ha in sé in cui si trova a vivere Raskolnikov noi ricordiamo che Raskolnikov riceve i soldi che possiede da due fonti dalla madre dalla madre ma questa madre ha ottenuto i soldi ma i soldi della madre sono i soldi che la madre riceve dalla pensione del padre e per l'orologio che dà impegno ma anche quell'orologio apparteneva al padre quindi tutti i soldi di cui Raskolnikov dice sono quelli veramente miei sono i soldi di suo padre che lui riceve da suo padre e sono proprio questi quelli che sono davvero i suoi soldi e quelli che lui otterrà da solo con i suoi mezzi vedremo che con quei soldi non riuscirà a fare niente saranno inutili inutilizzabili che orologio dà impegno che orologio com'è l'orologio che Raskolnikov dà impegno è un orologio d'argento piatto ha una catena di ferro sul retro di questo orologio piatto è raffigurata la terra il mondo questa è l'unica eredità che Raskolnikov ha ricevuto da suo padre come potete capire il globo il mondo la terra è la terra cioè lui ha ricevuto l'eredità questa terra la terra l'ha ricevuto come quel luogo un luogo di cui lui deve occuparsi è chiamato occuparsi a lavorare cioè ha ricevuto la terra così come a suo tempo l'aveva ricevuta Adamo un luogo un luogo di cui lui è il padrone e colui che ha chiamato a lavorarla e allo stesso tempo e allo stesso tempo così come poi l'ha ricevuta Cristo che è diventato quella sorgente infinita e sovrabbondante per tutto ciò che c'è sulla terra ora vi chiederei di ricordare come si conclude la lettera che la madre scrive a Raskolnikov alzi la mano per favore chi ha prestato attenzione a come si conclude la lettera che la madre scrive a Raskolnikov quando avete letto il libro chi ha notato la conclusione di questa lettera alzi la mano 6 7 8 9 ecco non vale 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 perché notate è lì che in sostanza ci è data l'immagine interiore che è l'immagine interiore che è il compito a cui chiamato Raskolnikov guardate come si conclude questa lettera preghi Dio e credi ancora nella bontà del nostro Padre e Redentore ma io ho paura nel mio cuore che tu sia stato contagiato dal nuovo ateismo che è di moda se è così io allora prego per te ricordi ricordi come eravamo felici quando tuo padre era in vita e tu balbettavi le tue preghiere sulle mie ginocchia adesso per favore dite qual è l'immagine celata dietro queste parole il bambino Gesù e la madame i bagarodizza adesso fa cadere la tele questo quadro questo quadro Dostoevsky deve averlo visto ma non è l'unico è uno dei tanti quadri in cui Cristo è rappresentato sulle ginocchia della madonna con in mano il globo il mondo sì cioè è il globo la terra al centro c'è la croce è il globo la terra al centro c'è la croce c'è la croce in più qua sono raffigurati seduti sopra una città che è una città su un fiume cioè c'è la croce in più qua sono raffigurati una città sul fiume è un modo in cui viene definita normalmente San Pietroburgo è un modo in cui si viene definita normalmente San Pietroburgo qui e non a caso anche se il punto centrale dove si svolge l'azione di diritto e castigo è la piazza Sennaia piazza del Fieno noi nel corso del romanzo siamo sempre o su un ponte su un fiume oppure sempre al lato di un canale di San Pietroburgo siamo sempre in un modo o nell'altro sopra l'acqua vicino all'acqua ecco l'immagine che Dostoevsky propone come il compito che ha chiamato a svolgere a realizzare il rascolnik l'immagine che c'è in lui dentro di lui originalmente come si trova in ogni uomo così come è l'immagine che c'è in ogni uomo perché l'idea di Dostoevsky è che ogni di noi Cristo è che ognuno di noi è Cristo come compito nelle condizioni nei dati reali della sua propria vita l'unione è questo per vocazione nel corso di questi quattro anni di lavoro di scuola abbiamo già parlato del fatto che che è il programma sociale di Dostoevsky è il programma sociale di Dostoevsky 15 volte non mi ricordo esattamente ma mi sembra che sia proprio questa la cifra c'è una frase che inizia con queste parole se tutti fossero Cristi ci sarebbero i poveri ci sarebbero i poveri e quindi attraverso e attraverso questo questo risultato di Dostoevsky sono diventati così grandi perché è un susseguirsi del suo tentativo è un successivo provare a guardare il cammino di un uomo che cerca a volte che si mette su questo cammino di realizzare la sua vocazione a essere Cristo a volte intraprendendo questo cammino anche senza esserne affatto cosciente perciò il grande scrittore russo Bunin aveva tutte le ragioni per dire che Dostoevsky parlava di Cristo ogni due per tre va bene va bene ha detto lui l'ha detto con un'espressione un po' più rude non un po' ma io non capo faccio tradurlo e ora Raskolnikov i pristupi e i nascosti sono come una sintesi perché è la prima provata e delitto e il castigo è la sintesi perché è il suo primo tentativo di fare questo ora vi mostrerò un trittico che abbiamo trovato a Rona a Rona a Rona che vi mostrerò un trittico che abbiamo trovato a Rona probabilmente Dostoevsky aveva visto perché era nell'unica chiesa che allora era aperta che sicuramente Dostoevsky ha visto perché era l'unica chiesa aperta in quella piccola cittadina in quella piccola cittadina in quella piccola cittadina per me questa è l'essenza e il tema delitto e il castigo la raffigurazione prima prima vediamo è Dio padre con la terra 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 solo che quella è l'immagine di una terra già trasfigurata ora guardiamo questa scena questo è San Giuseppe è il padre terreno questo è colui che ha ricevuto in eredità la terra e adesso osservate questo vi accorgete che è lo stesso volto? Dio padre è riflesso raffigurato espresso nel padre terreno come è rappresentato qua è allo stesso modo rappresentato in delitto e castigo ti credevi quando tuo padre era vivo e poi quando è morto hai perso la fede capite che la morte di Dio è la perdita della fede capite che la morte è la perdita della fede ecco ecco questa eredità ecco questa eredità ecco questa eredità Christo come erede della terra che ha ricevuto in eredità dal padre che deve illuminarla, che deve fare di questa terra un sole splendente. Ecco il compito che è affidato, che è consegnato all'eroe. Ma gli orologi non coincidono soltanto con la raffigurazione del globo che hanno sopra. Gli orologi hanno un meccanismo dentro. Una freccia che si muove circolarmente segnando l'istante e ogni istante che è toccato da quella freccia esclude quello precedente. Lascia da parte e elimina quello precedente. Perchè accada una cosa, perchè arrivi un dato momento deve essere eliminato quello precedente. E' un mondo che è un sistema chiuso. E' un mondo in cui è tutto calcolato. E in cui non può entrare niente di più, non può immettersi niente di più di quello che già è calcolato e contemplato. E' un mondo in cui per dare qualcosa a qualcuno bisogna prendere quel qualcosa da qualcun altro. Cioè è un mondo che è stato dato in eredità all'uomo dopo la caduta del peccato. Cosa significa la terra è stata maledetta a causa tua? Cosa significa che questa terra ha smesso di esistere come un sistema aperto immancabilmente in rapporto, costantemente in rapporto con Dio. E' una cosa che è stata trasformata. E' un sistema aperto. E' un sistema aperto. E' un sistema aperto in rapporto con Dio. E' un sistema aperto in rapporti con Dio che è stato assolutamente in rapporto con Dio. a tutto ciò che è al di sotto di lui cioè l'uomo prende da una sorgente infinita per nutrire tutto ciò che è creato e che è finito e in questo modo lo mette in rapporto all'essere infinito che cosa accade nel momento in cui la terra come l'eredità del figlio al prodigo è data in mano all'uomo? questo è il istituto di sabrina viene separato da questa sorgente infinita per desiderio dell'uomo, si prende la sua parte di eredità e dice noi facciamo da soli e gli è data la possibilità di rimanere da solo, di fare quello che vuole ma in quel momento tutto quello che prima nutriva quello che sta al di sotto dell'uomo si avvicina a farcire e si mette a farcire si rivolge a sabrina e l'uomo inizia a farcire e a farcire tutto quello che prima aveva la funzione di nutrire ciò che si trovava sotto di lui non avendo più la sorgente al di sopra si rivolge verso il basso e inizia invece a divorare quello che ha al di sotto di lui cioè inizia a divorare la terra l'uomo inizia a divorare la terra invece di nutrirla e di illuminarla capito se è ciò che è sotto che inizia a divorare la terra no no, è il contrario, avete capito? no, quest'ultimo passaggio no prima l'uomo riceveva dall'alto e nutriva in basso poi l'uomo decide dall'alto non mi interessa più niente faccio da solo non ha più la sorgente dall'alto si rivolge in basso e divora quello che avrebbe dovuto nutrire inizia invece a divorarlo a mangiarselo proprio questo è un mondo di miseria e di insufficienza è un mondo in cui non c'è altra possibilità se non quella di suddividere ciò che già c'è non entra niente di altro perché non c'è più niente da cui prendere secondo me questo mondo è ben raffigurato nell'immagine dell'Uraboros il serpente che si mangia la coda ecco, questi sono i due punti tra cui continuamente oscilla Raskolnikov quando non pensa, non ragiona agisce corrispondentemente a quella che è la sua natura profonda cioè quella sua natura che è la sua natura divina e quindi dà a tutti e quindi risponde di tutto quello che accade ma non appena inizia a ragionare, a pensare inizia a capire che non ha niente che quello che ha non gli basta per tutti e che allora deve urgentemente prendere qualcosa a qualcuno non può stessarsi di qualcosa ed è questa la condizione in cui lui si inventa, pensa, la sua teoria cioè, lui può essere questa sorgente infinita e lo vediamo di continuo ma preferisce con la ragione da un punto di vista razionale perché è chiaro che non è che si può sperare nel fatto che inaspettatamente ti arrivino dei soldi bisogna arrivare a ottenerli e per ottenerli e per ottenerli e per ottenerli e per ottenerli cerchiamo sempre in realtà di prenderli da qualcuno molto spesso non è una cosa così evidente o una cosa che non è per niente evidente ma se ci pensate è così anche quando si divide un premio è sempre la lotta per un pezzettino perché è poco e non basterà per tutti quindi in sostanza la nostra situazione non è poi così lontana da quella di Rasconico che cosa è 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 che cosa è? questo è uraboros è chiaro che l'uraboros è un simbolo che ha molti significati lo prendo nel suo significato più semplice che in modo così esplicito non è presente da nessuna parte se non in alcuni trattati di alchimia in cui letteralmente l'uraboros è dato il significato dell'annientamento di una data materia affinché compaia un'altra materia perché di norma nella letteratura popolare l'uraboros si può vedere l'interpretazione dell'uraboros come un simbolo di infinito e in quelle descrizioni di cose non negative non cattive ma come simbolo dell'interezza del mondo creato ma se ci pensiamo un attimo in questo simbolo di integrità di interezza dietro questo simbolo è nascosto il simbolo di un universo chiuso un sistema chiuso e l'infinitezza è allora un qualcosa che è opposto all'eternità perché l'eternità è l'essere delle cose mentre l'infinitezza è un continuo susseguirsi, cambiarsi delle cose in cui ogni cosa non ha un suo valore ma c'è questo circolo che si ripete continuamente e le cose passano una cosa arriva e finisce, arriva e finisce all'infinito è quello che è simile ai ragionamenti che fa Raskolnikov sulla percentuale se ricordate che Raskolnikov pensa che una certa percentuale deve sparire e andarsene così che gli altri possano continuare a vivere ecco questa è tutta un'idea che qua è espressa e riflessa tutto questo ragionamento è legato al meccanismo dell'orologio non si parla mai nel libro come non si parla mai? dell'orologio? no, del meccanismo dell'orologio nel libro è solo detto che c'è l'orologio ok ma l'orologio è un'orologio e l'orologio è un'orologio e l'orologio cambia funziona così è un'immagine che poi si riflette ancora in altri punti del romanzo ma per esempio io mi sento che non si parla mai all'orologio ma per esempio guardiamo una scena visto che ho capito che comunque non ce la faremo in questa lezione a dare tutta la lettura guardiamo un'altra scena guardiamo una scena dove Raskolnikov si è arrivato a mettere i giorni stop scusate ho molto bisogno che siate zitti se no io non riesco a tradurre grazie scena dove Raskolnikov si è arrivato a mettere i giorni osserviamo la scena in cui Raskolnikov va a dare impegno all'orologio кстати l'orologio lo chiamano Raskolnikov lo chiamano non so come sia stato tradotto nei vostri testi scusate è non è corretto che sia stata lasciata la parola perché perché letteralmente significa padre lei che era tre volte più vecchia di lui si rivolge a lui chiamandolo padre inoltre è un modo normale di rivolgersi ai sacerdoti per cui potrebbe tradurre come padre la vecchia di Raskolnikov si rivolge a Raskolnikov chiamandolo con una parola che indica padre e sacerdote è Dostoevsky mu daio' la possibilità di usare questo modo e Dostoevsky usando la parola in questo modo ciò che può usare la parola in questo modo perché nella lingua russa a quel tempo l'approcchia di padre è sempre stato fatto come familiare la rivolgersi a una persona chiamandola batushka era un uso familiare di rivolgersi a un uomo a volte ma comunque non si rivolge la parola ma questo non significa che la parola perde i suoi significati principali e nel testo ci sarà un'altra persona che si rivolgerà a Raskolnikov chiamandolo così questo è Parfiry Petrovich Parfiry Petrovich il personale che vede tutto il potenziale di questo eroe il secondo personaggio che vede tutto il potenziale di questo eroe è la vecchia Usuraia c'è anche un terzo quello che gli fa le lemosina è come questa la mercantessa con la bambina che gli fa le lemosina dicendogli per Cristo non so se c'è non so se c'è accetta questi soldi batushka come si dice in nome di Cristo quindi si costruisce una linea molto precisa non so se c'è 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 ma che cosa dice la vecchia Usuraia a Raskolnikov? ma quindi che cosa dice la vecchia Usuraia a Raskolnikov? e lui rifiuta e lei le restituisce allora loro logico, le voleva dare impegno con le parole volontà vostra le dice l'avete voluto voi volontà vostra secondo il vostro volere ok è un'espressione che dice se non volete come volete voi ma in quel momento lei che cosa gli sta dicendo cosa c'è anche in queste parole che lei gli restituisce l'orologio dice finché l'orologio l'avrai tu la tua volontà appartiene a te dopo di che sarà già la sua volontà a essere data impegno è un'espressione che è un'espressione che lui è un'espressione che non è successo è un'espressione che 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 si è andata perché quando Raskolnikov le allunga le dà l'orologio per dargli un impegno lei gli dice lei gli dice gli dice le porterò i percentuali nel corso del mese abbia pazienza e lei dice ma questo dipende dalla mia buona volontà terpite le vostre cose decido io se avere pazienza o vendere le sue cose mentre dopo qualche riga quando lui rifiuta lei gli restituisce l'orologio e gli dice è volontà sua cioè prima gli aveva detto mia volontà fare o non fare in un modo quando gli restituisce l'orologio lui dice è volontà sua cioè cioè noi davanti a un atto in cui è data impegno la volontà è un soggetto ed è un soggetto che è comune alla letteratura russa e alla letteratura europea dice che che dare impegno qualcosa a un usuraio russa cattore prima ha un usuraio che quando uno dà impegno un oggetto a un usuraio l'uomo che fa questo innanzitutto sta dando impegno al suo volere la sua volontà e a questo è legato a non solo il divieto dell'usura canonico ma è anche legato a non accettare l'usuraio nell'Europa Medievale perché tra tutti questi soggetti sempre c'è un altro perché dietro a questo soggetto c'è sempre stato un altro un uomo che vuole che l'idea di un uomo la cui volontà è stata ricomprata da Cristo perché nel momento del risultato ci siamo in un mondo perché nel momento del peccato originale noi ci immergiamo in un modo in cui siamo completamente legati da delle dipendenze e Cristo ci ricomperà restituendo al mondo questa volontà libera e adesso l'uomo che ha la sua volontà può dare impegno è in cui in cui è soggetto dell'uso nella letteratura europea è legato sempre al fatto che la cosa data impegno è sempre soltanto un simbolo del fatto che ciò che è dato impegno è la volontà dell'uomo nella letteratura russa probabilmente la descrizione più chiara è quella che è presente nel racconto di Gogol il ritratto in cui viene mostrato come ogni ognuno che prende soldi da un usuraio con quei soldi proprio con quei soldi distrugge quel qualcosa che è quello che ha di più caro nella sua vita a causa del quale era andato a chiedere a prendere quei soldi dall'usuraio è tutto molto peggio di quanto pensassi perché quasi non stiamo riuscendo a fare in tempo niente di quello che avevo pianificato in questo modo in questo modo bisogna mettere sempre fino alle 5 o alle 5 e mezza fino alle 5 e mezza ok allora non è così male come pensavo adesso vediamo il rapporto tra il colore giallo e e questo che abbiamo visto inizio è il solito diventate un sole in questo modo che nell'Europa medievale dove iniziano a dipingere i quadri quando si iniziano a dipingere i quadri il giallo e l'oro erano radicalmente opposti perché il giallo era quel colore che era innesto con ciò che era oltre i confini al di là con l'al di là e che iniziano in questo mondo come una buona e che è il colore che porta in questo mondo quella grazia che viene dall'al di là tutto il fondo oro delle icone rappresenta proprio questa qualità e il giallo è il giallo è il giallo rappresenta un oro deprezzato privato del suo valore perché si è svalorizzato perché si è staccato da quel rapporto con l'al di là il giallo è il giallo che è il colore di un sole che ha smesso di essere sole quindi è il giallo il giallo il giallo è la sono le ceneri della luce del sole del colore del sole e stai il sole prima bisogna essere il sole e diventate il sole deve innanzitutto essere sole a questo punto alla luce di questo non è soltanto l'invito a una trasformazione trasfigurazione di se stesso ma è anche l'invito a una possibile nuova trasfigurazione del mondo quando l'orologio d'argento quella terra nera si trasforma in quel globo d'orà ora dobbiamo passare all'epilogo lasciando da parte tutte le scene che ci sono in mezzo tra l'altro l'intero capitolo del Vangelo per un lavoro successivo abbiamo visto che Raskolnikov all'inizio del romanzo aveva di Raskolnikov dato la sua immagine ideale di Raskolnikov come del bambino Gesù come di Cristo bambino e che da un punto di vista emotivo viveva seguendo quell'immagine che aveva in sé mentre da un punto di vista razionale viveva tradendo continuamente quell'immagine da questo punto di vista probabilmente vale la pena menzionare subito il punto in cui Raskolnikov dice io ho ucciso me stesso non ho ucciso la vecchia la vecchia l'ha ucciso il diavolo quindi c'è c'è un uomo interiore e c'è un uomo esteriore credo l'uomo esteriore ritiene di vivere di più tanto più prendeva la vita agli altri interiore ma in realtà questa vita dell'uomo esteriore si produce grazie al fatto che lui ha ucciso il suo uomo interiore perché l'uomo interiore è quello che si orienta a darsi a donare è quello che si è l'uomo interiore che è lui stesso perché l'uomo esteriore non è nulla quindi questo tentativo di vivere un uomo a costo della vita dell'altro diminuisce la quantità di vita in realtà diminuisce riduce la quantità di vita nell'uomo stesso che fa così e questo si esprime nel corso di tutto il romanzo in modo molto chiaro perché Raskolnikov sente continuamente che non riesce più a entrare nel rapporto con nessuno ed è proprio per quello che si è appodrillo che è saltato su che si è così ripreso che si è così rinvigorito quando Pollicca gli ha dato il bacio all'improvviso si è reso conto che è ancora legato a qualcosa che può ancora entrare in rapporto lei gli dà un bacio lui chiede di pregare per lui e poi lui ricordandosi di quel bacio dice che 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 mi ha ucciso che mi ha ucciso le morte le morte ancora più grandi mentre con Sonia uccide uccide se stessa come dice Raskolnik uccide il suo uomo esteriore il suo uomo esteriore sé esteriore dà la sua carne all'oltraggio per nutrire quelli che sono con lei a un certo punto dirà al contrario che cosa ne sapete voi noi siamo uno viviamo l'uno per l'altro cioè una persona che dà se stessa in sacrificio la vita aumenta cresce perché inizia a vivere insieme unitamente a quelli che nutre dando se stessa questa situazione così strana così paradossale rispetto a quello che noi presupporremmo c'è mostrata attraverso tutto il romanzo di Dostoevsky quando tu cerchi di prendere qualcosa per te immediatamente perdi la cosa più evidente è il momento in cui Raskolnikov subito dopo aver commesso il delitto desidera buttare tutto quello che aveva preso nell'acqua nel fiume e in più dice addirittura ci ho pensato praticamente quasi nel momento stesso in cui stavo commettendo il delitto mentre al contrario quando dai in realtà ricevi quello che hai dato è tuo la cosa più evidente in questo romanzo e in modo ancora più evidente Dostoevsky lo farà nei fratelli Karamazov nella storia sulla cipollina nella storia sulla cipollina di cui noi abbiamo parlato durante la seconda scuola estiva in realtà nel romanzo i criminali i criminali e i criminali e i criminali in delitto e il castigo sono come posti quasi tutti i temi fondamentali dei romanzi che Dostoevsky scriverà in seguito ma ora dobbiamo passare all'epilogo perché abbiamo visto chi è Raskolnikov per vocazione che abbiamo visto che cosa lui in sé distrugge accettando questa, decidendo di agire in modo razionale cioè secondo una raffigurazione del mondo come un posto di miseria e di mancanza, di insufficienza e ora vediamo invece a che cosa lui ritorna e se uso la parola ritornare significa che lui è ritornato da dove era uscito ma è interessante vedere come lo mostra Dostoevsky alla fine dell'epilogo vediamo una scena strana questa scena strana avviene in una situazione in cui, come scrive Dostoevsky è come se il tempo si fosse fermato cioè Raskolnikov è seduto su dei tronchi guardava il fiume ed era come dentro di sé dentro la sua testa era come se fosse uscito dal tempo e allo stesso tempo vede oltre il fiume stada e i urti stada e i urti come se non fosse ancora passato il tempo di Abramo e del suo greggio cioè noi in questo momento in questo momento troviamo assolutamente evidente in quel momento in modo assolutamente evidente noi ci troviamo nella regione dell'eterno dell'eternità ma occorre dire che qualsiasi epilogo di qualsiasi romanzo ha sempre un'altra qualità dal punto di vista del tempo rispetto al testo fondamentale principale del romanzo perché nel testo ci dicono due mesi di vita perché è di norma un testo ci parla di un periodo lungo due mesi di vita di un personaggio come tutta una storia di amore chi ha offeso chi chi ha perdonato chi e poi di colpo nell'epilogo ci è detto dei 25 anni di vita successiva in tre pagine o in mezza pagine o in mezza pagina o in una frase sono vissuti felici e morti in un giorno l'epilogo ci sposta sempre in una regione di un'altra qualità del tempo e qui Dostoevsky radicalizza questo modo normale di trattare in modo diverso il tempo nell'epilogo ci ritroviamo letteralmente nell'eternità e tutta questa scena è molto strana e proprio per questa stranezza deve attrarre la nostra attenzione perché poi non si accade perché lui non si accorge che a un certo punto accanto a lui si va a sedere Sonia si va a sedere cioè lui è seduto e guarda il fiume seduto su questi tronchi quindi Sonia evidentemente arriva alle sue spalle da dietro di lui perché non sarebbe potuto arrivare da nessuna altra parte davanti c'era il fiume cioè lei arriva dal di dietro e assolutamente молcia e in assoluto silenzio si siede accanto a lui non lo saluta non gli dice ciao niente in silenzio assoluto e poi ha detto che molto spesso lei aveva paura di dargli la mano che lui molto spesso rifiutava di dargli la mano la respingeva e lei si accade e lei si accade si agitava e andava via in lacrime mentre in quel momento le loro mani non si scioglievano più erano inscenibili cioè lei si trova arrivando in qualche modo dal di dietro seduta accanto a lui in modo assolutamente silenzio si 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 insiste nel modo Cioè poteva dire semplicemente che si sono presi per mano, invece lui la espande bene questa scelta. Cioè ci spiega che c'era questo problema, che non si davano la mano, eccetera. E qui all'improvviso si tengono per mano. Cioè letteralmente ci fecca dentro il naso dentro questa cosa. Perché noi questo dettaglio non ce lo lasciamo sfuggire. E viene descritta Sonia. Sonia con questo scialle verde e burnus. Burnus? Burnus è un'adezza con questo vestito. C'è qualcosa in questo modo. Tipo un manto, per abbraccio arabico. Con tipo un manto di tipo arabo. Burnus è un burnus. Burnus è una veste che è arrivata in Russia dal mondo arabo. E che peraltro è una parola che nei testi di Dostoevsky appare molto raramente. Ed è assolutamente e appare sempre in situazioni molto specifiche. Secondo me questa parola compare solo sette volte. E di queste sette, quattro volte in delitto e castigo. Anzi no, cinque. Quattro volte in delitto e castigo di cui quattro riferito a Sonia. E altre due volte. E questa parola è usata nel romanzo I demoni. E in questa parola è arrivata Varvara Petrovna. E sono vestiti con questo burnus. Una volta Varvara Petrovna. E con questa parola è arrivata Maria Timofievna. E' detto che non aveva il burnus. Maria Timofievna sempre nei demoni. Ma la parola c'è. E' detto che lei non l'aveva. Obe queste dame. Entrambe queste signore. In diverse situazioni ma raffigurano l'immagine della madre di Dio nel romanzo I demoni. Varvara Petrovna nell'epilogo del romanzo. E Maria Timofievna, in modo abbastanza evidente, nel rapporto con Stavrogin come perversione di Cristo. E' tutto interessantissimo ma ora non ci occuperemo di questo. Vediamo invece gli altri cinque casi in cui compare la parola burnus nel testo. Quattro volte indica Sonia. E una volta Pollecchka. Una volta Pollecchka. E Pollecchka è vestita in un burnus che a questo punto traduciamo come burnus di Dradedam. Cioè di quella stessa stoffa di cui era fatto lo scialle verde. Quindi si viene a creare un contesto di dati reali in cui vive questa parola molto interessante. Ora che cos'è questo tessuto il Dradedam? In francese è stoffa di Dradedam. Di donna. Da signora. 고요. Scusate meno sulle direzione di Dramat一下. E mi sentita è Выcchata di indica. Ma. Ma. DRA DE DAM questo significa nulla DRA DE DAM non vedo quali signori dovrebbe cambiare DRA DE DAM ah è in ruota russa? in franzasca? in franzasca? no, no ne siano capi per la francesca è russa non ho scelto non lo uso russo non ho capito ne ho capito franzasca franzasca è nella parola originale in francese all'inizio era plurale perciò era stoffe delle signore per cui si pronuncia de se cambi leggermente la parola della signora come notre dame, nostra signora cioè il tessuto della signora, la stoffa, il manto della signora in modo molto trasparente perché non si capisce affatto perché questa brutta parola in russo suona molto male perché nel testo russo è la parola russificata perché in russo si deve usare una parola così brutta e anche questa parola al di fuori di delitto e castigo appare nei testi di Dostoevsky solo una volta nell'adolescente anche lì in una scena molto precisa che andrebbe benissimo per la nostra analisi ma che non è una parola che ci mostra letteralmente indica letteralmente la parola di Dostoevsky è una parola che ci mostra letteralmente indica letteralmente il manto della madre di Dio non era quello per cui il marmellado a figlia aveva detto che era quello di famiglia e te ne ho detto c'è un marmellado che aveva visto da semiene da semiene sì certo non c'era nessun altro c'era solo quello questo è il plato con cui Sonia si rivela con cui si rivela con cui Sonia si rivestiva quando si vendeva ed è proprio in quello che Sonia alla fine si trova accanto a Rasconico e quindi sono seduti l'uno accanto all'altro si tengono per mano Sonia ha questo manto della Madonna questo scialle verde la parola di Dio è molto importante nel russo nella ortodossia russa il manto della Madonna è molto importante l'idea e il zenith rappresenta un'idea molto importante e indica una festa liturgica molto importante l'uomo la molitva alla Madre praticamente sempre dice che incontrava la parola di Dio preghiamo la madre di dio in questo pregare la madre di dio ci sono sempre è sempre accompagnata da queste parole coprimi con il tuo manto di vestimi coprimi con il tuo manto questo è legato a una storia una storia che è accaduta in grecia quando i russi avevano raggiunto le mura di costante l'armata russa aveva raggiunto le mura di costantinopoli e i greci per salvarsi dall'attacco dalla discesa dei russi si erano inchiusi in chiesa in cui un folle di dio aveva visto la madre di dio distendere il suo manto salvare tutti quelli che si erano nascosti in questa chiesa quindi c'è l'immagine di questo tessuto di questa con cui lei ricopre tutti per salvarli e aveva detto a tutti siete salvi le allarmate russa è stata sconfitta la cosa più interessante adesso è che i greci questa festa se la sono praticamente dimenticati mentre in russia è una delle feste centrali dell'Italia e questo ci dice di quello che il cristianesimo fa della nazionalità l'ideale di quello che il cristianesimo dovrebbe fare con la nazionalità cioè i russi smettono di associare se stessi con i loro antenati pagani e si associano invece con i loro antenati spirituali i greci questo è l'analogo europeo dell'idea della madonna del manto russa allora vi chiedo di ricordare questa immagine così che non siamo tutte le volte obbligati a mostrarla con la televisione perché questa immagine ha a che fare anche con un'altra scena che analizzeremo sempre nell'epilogo mentre adesso ecco quello che adesso vediamo descritto questo è uno dei tipi di icone non molto frequenti in cui Cristo tiene la mano della madonna si chiama la madre di Dio non mi ricordo non mi ricordo no 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 avvocata dei peccatori tipo che intercede per i peccatori non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo quindi ecco 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 per cui lui la storia di questa icona ce l'aveva bene in mente e su quella icona c'è una scritta ve la dico direttamente in russo perché lì è scritta l'antico slavo io sono colei che è garante per il peccatore davanti a mio figlio lui mi ha dato la sua mano mi ha dato la sua mano a dire che mi avrebbe ascoltato sempre chi chiede a lui grazia attraverso di me, per mezzo di me attraverso di me riceverà la gioia eterna come capite le ultime parole si riferiscono direttamente a quello strano testo con cui letteralmente si conclude delitto e castigo perché se noi rileggiamo queste parole perché può essere che noi per abitudine non vi abbiamo fatto molta attenzione dobbiamo stupirci di quello che ci è detto qua ma qui già inizia una storia nuova la storia di un graduale rinnovamento dell'uomo o di un uomo la storia della sua graduale rinascita del suo graduale passaggio da un mondo in un altro l'incontro con una nuova fino a quel punto assolutamente inimmaginabile realtà e in una realtà completamente nuova mai vista come quel mondo è il compimento della profezia scritta nell'icona chi chiederà attraverso di me attraverso di me riceverà la gioia eterna la storia di un io trasfigurato in un mondo trasfigurato ecco il momento e questo è il momento che si trova proprio alla fine in cui colui che si era tirato indietro da quello che era il suo compito e aveva cercato di fare un'altra strada e aveva cercato di cavarsela senza Dio perché aveva capito che Dio non si raccavava bene aveva cercato di agire secondo altre modalità percorrendo altre strade e poi si torna alla sua immagine originaria per non fare più passi indietro perché proprio da questo punto inizia la piena trasfigurazione dell'uomo e del mondo una storia completamente nuova assolutamente nuova voglio ringraziare la vostra attraverso l'episodio messa non è messa però bisogna sapere se viene l'episodio sì 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 abbiamo 3 minuti vuole farci notare in caso non abbiamo tempo un altro episodio allora scusa l'interruttano e allora in un altro momento allora andiamo alla prossima